Previsioni meteo per venerdì 24 aprile. Al nord condizioni di variabilità caratterizzata da spazi soleggiati alternati a nuvolosità che sarà a tratti anche compatta. Al centro trempo in gran parte soleggiato ma con nuvolosità un po' più decisa sulla Toscana con locali acquazzoni sulle zone interne. Al sud si rinnovano condizioni di tempo generalmente stabile e ben soleggiato con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Venti deboli da sud est. Mari generalmente mossi. Temperature stabili.